Roberto Di Piazza lo avevamo lasciato così, mentre autografava la parete delle dediche in redazione al termine dell'intervista di fine mandato, quando uscendo di scena improvvisò pure una benedizione. Un attimo, siccome ero del Papa, mutus dei domine coccis. Arrivederci! A 30 giorni di distanza dal passaggio di consegna al nuovo sindaco Cosolini e dalla sconfitta della coalizione che appoggiava Antonione, gli abbiamo dato appuntamento in Piazza Venezia per parlare di questo suo primo mese da triestino, tra virgolette, normale, dopo 15 anni da primo cittadino. Beh sai, lì vivo ancora da protagonista, nel senso che tutto quello, come ovvio, tutto quello che vedete è frutto dell'altra amministrazione, dell'altra giunta. Penso a Costa Favolosa, penso alla Biennale Allargata, penso a Piazza Libertà, insomma per un periodo ci sarà quello. Allora lo vedo come un protagonista. Per quello che mi riguarda, continuo a lavorare nei miei supermercati, anzi adesso sto mettendo a posto parecchie cose, perché sai che bene o male erano state trascurate, per cui c'è una certa serenità, tanti complimenti dei cittadini. E poi ti dirò una cosa, se faranno bene, viva Trieste sempre e comunque, e viva il centro-sinistra. Se faranno male, viva Trieste e viva il centro-destra. Non sono mancato ovviamente alcune riflessioni sul suo futuro politico e sul suo ruolo nel centro-destra. Adesso cercherò innanzitutto, nei prossimi mesi, di riunire tutte le varie anime del centro-destra. Noi eravamo veramente molto uniti e quando eravamo uniti, l'hai detto prima tu, per 15 anni abbiamo sempre vinto. Poi tutto questo si è sciolto per interessi personali come neve al sole e adesso bisogna ricominciare a ricucire, a riunire tutto il centro-destra, perché il centro-destra compatto vince. Di piazza pensa alle regionali? No, di piazza pensa a riunire il centro-destra. No, di piazza pensa alle regionali?